La signoria vostra è invitata alla grande festa VIP, è di rigore lo smoghi. Ah, ah, mi viena a ridere. E questo cos'è? Guardate che taglio, che linea, la stoppa. E questa sciarpa di seta, sapete quanto ho pagato tutto questo? 450 mila lire, ovviamente alla standard. Donne, non preoccupatevi, questa sera sarò di tutte voi, a costo di dividermi in due. Eh no, ma allora ditelo, eh! Gli auguri più belli, ma lì con standard.